Parte il progetto Salva Fratino 2021, fortemente voluto dall'area marina protetta. Presidente, prosegue questa collaborazione anche con il WWF. Permettetemi di ringraziare il WWF per aver organizzato la conferenza stampa di oggi e per aver dato avvio al progetto Salva Fratino 2021. È un progetto che nasce nel 2011, progetto sul quale l'area marina protetta ha investito molto e che vorrebbe migliorare, stiamo già lavorando sempre in collaborazione con il WWF, a quello che potrebbe essere un protocollo, una bozza di protocollo per le attività di monitoraggio. Naturalmente seguendo sempre quelle che sono le linee guida dell'ISPRA. Quello che vorrei fare è un appello, un appello a tutte le persone. Sappiamo che il periodo di unificazione parte da adesso, da marzo, e prosegue fino al periodo di fine luglio. Quindi il mio e il nostro è un appello a tutte le persone che nei prossimi mesi si troveranno a vivere le proprie giornate in spiaggia. Quindi un appello a fare attenzione, a evitare di avvicinarsi ai nidi, a non proseguire oltre i cordoni fatti con paletti e funi che delimitano le fasce dunali, le fasce retrodunali, che sono zone in cui potrebbe esserci la presenza del fratino. Un appello soprattutto a tenere i nostri cani, tutti amiamo i nostri amici a quattro zampe, a tenerli a guinzaglio. Perché per gioco, per istinto o semplicemente per avvicinarsi a un nido potrebbero comprometterne la cova. Il fratino è una specie protetta da normative nazionali e internazionali. E in Abruzzo, come in tutta Italia, in Fortecalo si stima una diminuzione del 50% della presenza. E anche la specie simbolo delle nostre spiagge è di una spiaggia che è tenuta bene, dove c'è un equilibrio ecosistemico importante, dove c'è una duna ancora presente. Per questo, proteggendo il fratino, noi proteggiamo anche tutto un tratto di ecosistema costiero e dunale. Chiamiamo tanti volontari a partecipare perché è importante che ci sia appunto una consapevolezza dal basso dell'importanza della conservazione del fratino, ma della natura in genere. Proteggere il fratino è un compito che spetta a tutti, alle istituzioni, ai volontari, agli enti. Quindi noi chiediamo la collaborazione anche dei comuni, della regione, dei balneatori, della Guardia Costiera che ci supporta ovviamente ogni anno.